Buongiorno signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di spread stagionali sulle materie prime e in particolare parliamo di 4 domande a cui rispondere prima di aprire un'operazione. Sono 4 domande che possono rendervi profittevoli o possono provocare, generare grandi perdite se la risposta è sbagliata. Io sono Francesco Buzzi, trader, investitore e founder di Buzzway.it, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non perdete tutti i video che facciamo, sono 6 video a settimana, una caterva di materiale da spulciare, da fare per imparare un po' di trading e investimenti e vi ricordo che domani sera, il 12, scade la promozione Master Scrocchiarello 30 ore di corso, il software proprietario con licenza Lifetime, il gruppo d'elite per confrontarsi direttamente con me, un sacco di cose dentro un percorso che vi rende trader sistematici a tutto tondo. Partiamo subito con le 4 domande da porci prima di aprire un'operazione in spread, subito dopo la sigla. Prima domanda da porci prima di aprire un'operazione. Perché aprire questa operazione? Quali sono le motivazioni che ci hanno spinto ad aprire un'operazione? Alcune risposte sbagliate potrebbero essere per via di un indicatore, per via dei raccomandati di Sisonago, per via di un consiglio di un amico, perché sulle trendline, i doppi minimi, perché ha toccato dei livelli di supporto e resistenza. Queste sono risposte sbagliate, che possono anche farvi finire un'operazione in guadagno, ok? Ricordiamoci che se sbagli non vuol dire che tutti i trade sono sbagliati, però sul lungo periodo rischia veramente di farvi male questo tipo di approccio. Sulle materie prime queste cose non contano, bisogna capire cosa muove il prezzo. Ad esempio sul natural gas noi sappiamo che d'inverno e in parte d'estate il prezzo sale, sale grazie ai consumi di 350 milioni di americani. Noi sappiamo ad esempio che il prezzo della soia d'estate inizia a scendere, perché? Perché arriviamo dal momento di semina della soia, quindi di alto rischio, a un momento di raccolta verso fine autunno, inizio inverno, in cui abbiamo la raccolta, quindi abbiamo più soia, quindi abbiamo più offerta e quindi il prezzo scende. Domanda, offerta, domanda, offerta, niente di tracciato sul grafico, non ha senso quella cosa lì. Quindi perché aprire questa operazione? Per quella stagionalità lì, per questa giustificazione. E perché il prezzo è buono. Non si guarda il prezzo con gli indicatori, non ha alcun tipo di senso, io consiglio di guardare il prezzo con gli staked, che è una misura molto più concreta, assoluta e corretta, ok? Quindi, prima domanda, perché apri quell'operazione? La apro perché su questa materia prima c'è una stagionalità che posso sfruttare. C'è un movimento di prezzo dato dalle caratteristiche di quella materia prima che posso sfruttare. Domanda numero due, quando uscire? Francesco, io non lo so quando devo uscire, apro e poi vediamo, cioè non capisco. E invece è sbagliato. Prima di entrare in posizione, devi farti la domanda di quando uscire. Perché questa domanda ha due presupposti importanti. Uno, ti dà una misura di stagionalità. Se tu pensi di uscire da quella posizione dopo 15 giorni, la mia domanda è, esistono stagioni da 15 giorni? A me non sembra. Quindi che cosa stai aprendo esattamente? Che operazione è? È forse uno dei raccomandati di Seasonalgo? Ti sfugge qualcosa? C'è qualcosa che non va. Un'operazione stagionale deve essere almeno di un mese, un mese e mezzo, due, tre, per arrivare comodamente ai sei mesi, ok? Per forza di cose. E in secondo luogo, non trovare un punto di uscita ti lascia in balia delle emozioni. Un premio Nobel per l'economia come Daniel Kahneman, per l'economia comportamentale, ha dimostrato scientificamente che quando abbiamo a che fare con i soldi, facciamo un sacco di errori. Per l'ansia, per lo stress, per un sacco di bias cognitivi. Quindi non possiamo stare in balia delle nostre sensazioni, delle sì poi entro a mercato e vediamo, perché il vediamo sul lungo periodo ti fa fare schifo, ti fa perdere un sacco di soldi. È un dato di fatto, ok? Quindi alla seconda domanda, quando uscire bisogna rispondere, esco dopo tre mesi perché la stagionalità penso possa finire là e quindi io vado da giorno X a giorno Y. E il giorno Y probabilmente uscirò dal mercato, a meno che ci sono le domande tre e quattro. Cosa fare se il mercato va a favore e cosa fare se il mercato va contro Francesco? Ma io non lo so, cioè se va contro vedrò, rientro, faccio, di tocco, metto delle opzioni, faccio delle cose, faccio... No, è sempre lo stesso discorso. Bisogna rispondere a questa domanda prima, come? Con stop loss e take profit. Ma la stop loss è per sfigati, non te l'hanno detto che per sfigati? No, non è vero, non è vero, mi spiace. La stop loss aiuta, aiuta a salvare i conti, soprattutto quando si fa trading in questo modo. Aiuta a salvare i conti e fidatevi di un pirla che ha rischiato di bruciare il conto su un'operazione su natural gas. È andato di fatto, lo stop loss mi ha salvato la vita. È uno stop loss anche fin troppo grande, ok, perché ho preso 3.000 e qualcosa euro sui denti. E è stato un mio errore. Erano due anni e mezzo fa, in autunno del 2018, ho fatto un errore grave. E lo stop loss mi ha salvato la vita. Lo stop loss è una misura di rischio, anche. Quindi io decido uno stop loss per un determinato spread da 300 euro e questa è la massima perdita che posso sopportare. Questo mi permette di calcolare il rischio sul capitale. Una operazione non può, in caso di perdita, farmi perdere il 10% del mio capitale. È una follia! Cioè se ne sbagli 3 per il 30%? Per recuperarlo è devastante, devi fare una performance da capogiro. Non ha senso. Bisogna gestire e moderare il rischio. Quindi lo stop loss è una misura di rischio. Per chi non lo sapesse, perché ogni tanto qualcuno ancora non capisce questa cosa qua, ma ogni operazione non può occupare più del 2-3% totale del capitale a disposizione per gli spread. È importantissimo. Quindi mettere lo stop loss. Uno, ci salva il conto. Due, ci dà una misura quantitativa di rischio. Lo percepiamo. È quello. E quindi possiamo decidere quanti contratti aprire, che stop loss mette. Se aprire o no l'operazione, non è detto che tutti gli spread si possano aprire. Succede, ok? È fondamentale. Il take profit è un po' meno importante, però ci dà una valutazione, cioè un po' meno importante nel senso che non incide direttamente sul rischio ovviamente, però ci dà una valutazione di performance. Quindi non stiamo lì a farci delle domande, no? Perché? Allora, lo spread è andato in direzione, però io ho letto sul corriere che la soia non è stata importata. Allora aspetto e poi vediamo. Aspetto e poi vediamo, comunque non va bene. Quindi è meglio imputare un bello stop loss, un bel take profit, magari usare gli alert di Seasonalgo, appuntarsi qualcosa, mettere gli ordini in macchina su Interactive Broker, così che vengono eseguiti in automatico. Sono tutte cose fattibili, ma vanno messe. Queste quattro domande ci permettono di affrontare un'operazione sull'isprezza giornale completa, piena di probabilità della nostra. Questo non vuol dire che ogni operazione andrà in positivo, ragazzi, non è così, ci mancherebbe. Ma sul lungo periodo noi abbiamo la probabilità della nostra, noi lavoriamo bene e noi andiamo a guadagnare. Quanto? 20-30% medio anno. Ah, ma quest'anno hai fatto lo 0, 20-30% medio anno su un arco temporale abbastanza lungo, perché questo è il nostro orizzonte. Ok? Non stiamo a fare il giochettino, il trading non è quella roba lì. Quindi noi dobbiamo essere professionali e affrontare i mercati con l'isprezza giornale sulle materie prime con queste quattro domande che ci permettono di aumentare le nostre probabilità, aumentare le nostre chance. Nel momento in cui sentite qualcuno non rispondere a queste domande è chiara manifestazione di ignoranza. Non è un difetto, nel senso, è normale. Ognuno di noi è ignorante per alcune cose. Se mi chiedi della fisica quantistica, eh, io ce li ho anche i libri di Feynman e il mondo dei quanti, eccetera. Però dire che capisco qualcosa, no. E quindi sono ignorante in quello. Ci sta. L'importante è che non prendete consigli operativi da quelle persone perché è un problema sul lungo periodo e non rispondere a queste domande, non avere una vera strategia, porta aperta. Su questo non ci vedete da fare. Spero di essere stato d'aiuto con queste quattro domande. Spero che il video vi sia piaciuto e spero di vedervi in diretta il 12 pomeriggio, sera, quindi domani, per la chiusura del Master Scrocchiarello. Per me è stato un piacere. Noi ci vediamo tutti i giorni alle 14 con un video, domenica alle 10 con la Bazz... un sacco di appuntamenti. Comunque, Bazzway.it trovate tutto. Ciao, è stato un piacere.